Alex Schpazzer è stato condannato dal Tribunale arbitrale sportivo a otto anni di squalifica e non potrà partecipare alle Olimpiadi di Rio in Corso. Questa è la pesante sentenza dopo l'udienza di un discorso. L'ex marciatore altoattesino era stato trovato positivo ad un controllo antidoping a gennaio, ma la notizia era stata diffusa un mese prima delle Olimpiadi. Un rimpallo di responsabilità che ha portato al verdetto definitivo per l'Azzurro è arrivato nella notte di mercoledì. Il TAS ha accolto in pieno la tesi della Federazione Internazionale di Atletica, leggiera che l'aveva chiesta nella udienza di tre giorni fa. Secondo notizie tra pelate pare che Schpazzer sia rimasto in silenzio per 45 minuti dopo aver pronunciato due parole. Nelle prossime ore la partenza definitiva per l'Italia. Mimmo Siena, Speciale News.